Dieci bambini di famiglie disagiate da oggi non hanno più l'assistenza presso l'IPAB Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro di Alcamo. È accaduto infatti che alla fine del 2018 il Comune di Alcamo ha deciso anche con i suoi bilanci di tagliare le somme destinate al servizio semi residenziale diurno per i bambini, portandolo da 29 unità a 19 unità. Da allora tutta una serie di incontri si sono susseguiti tra il commissario straordinario dell'IPAB alcamese Vito Giuliana, il sindaco Domenico Surdi e l'assessore Alessandra. Il risultato però finora è stato nullo e l'amministrazione dell'IPAB ha purtroppo dovuto chiudere i rubinetti dopo che aveva prorogato il servizio di tasca propria fino al 30 giugno scorso, vale a dire fino a ieri. Questa mattina una nota stampa è stata diramata dall'IPAB alcamesi in cui si legge che il destino della struttura appare sempre più inesorabilmente segnato. Il crescente disinteresse delle istituzioni preposte alla tutela delle fasce più in difese della società civile e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, scrive il commissario Vito Giuliana, rischia di provocare un'irreversibile crisi economico-finanziale tale da non permettere più di soddisfare i bisogni primari degli utenti ospiti dell'IPAB. Assistere quasi per secoli minori provenienti da famiglie disagiate ha assunto nel tempo un significato di investimento sociale che evidentemente costituisce sempre meno un primario obiettivo per chi amministra la cosa pubblica della città di Alcamo, dice il comunicato dell'IPAB. Il destino e l'eventuale conseguente scomparsa dell'IPAB pastore San Pietro di Alcamo potrebbe costituire Remus Six Stantibus un fallimento non soltanto per l'ente stesso ma per tutta la collettività alcamese. L'IPAB è un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza sotto il controllo e la vigilanza dell'assessorato regionale alla famiglia, le politiche sociali trae le sue origini dalla fusione dell'IPAB opera Pia Pastore e casa della fanciulla San Pietro, entrambe con non sede ad Alcamo e si prefigge lo scopo della solidarietà in favore dei soggetti e dei nuclei familiari in stato di bisogno, garantendo ai destinatari dei servizi resi un adeguato livello assistenziale. Ad oggi l'IPAB si è presa cura di 38 minori. A far data dall'1 gennaio scorso l'amministrazione comunale di Alcamo guidata dalla sindaco Surdi motivando con la scarsa disponibilità finanziaria in bilancio ha deciso di non rinnovare per il servizio semiresidenziale diurno 10 convenzioni su 29 non prendendosi cura del destino dei minori e rimandandoli a casa come se fossero dei pacchetti, scrive amaramente il commissario straordinario dell'IPAB alcamese. Ma la struttura in coerenza con l'obiettivo prioritario di tutelare i minori pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche ha sentito il bisogno di sbracciarsi per cercare di garantire a questi 10 bambini l'assistenza e quindi non mandarli a casa. Ma tutto ciò ha una durata e fino a ieri è stato possibile, adesso non lo è più. Considerato il perdurare dell'indifferenza nell'affrontare il problema da parte del comune di Alcamo che dal 1 gennaio ha deciso di non pagare più le rette a questi 10 bambini è arrivata purtroppo la sofferta decisione del commissario straordinario Vito Giuliana che alla luce della crisi economica finanziaria che la struttura dell'IPAB sta attraversando ha dovuto disporre la sospensione del servizio per 10 minori ospiti del semi convitto a totale carico dell'ente fino alla data del 30 giugno 2019. Insomma l'IPAB Opere Pieri Unite Pastori e San Pietro per 6 mesi si è fatto carica delle spese, adesso non ce la fa più e a causa della mancanza della sensibilità da parte del comune di Alcamo questi bambini non potranno più soffrire di un adeguato livello assistenziale né beneficiare del progetto attività estive. Grazie.